Il centro storico di Belluno si è vestito a festa, le bandiere rosa rafforzano l'attesa in vista della via ufficiale dall'11 settembre dello Sport Business Forum. L'evento promosso da Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Veneto Est ed il gruppo Nord Est, fra Montebelluna, Longarone, Belluno e Cortina D'Ampezzo, teso ad accendere i riflettori sull'economia dello sport in vista del grande evento olimpico 2026. È un evento che mira promuovere il territorio della provincia di Belluno qualificandolo come la capitale nazionale dell'economia dello sport con tutte le sue possibili declinazioni. Più di 40 gli eventi previsti dall'11 al 15 settembre, tutti liberamente fruibili, annunciata la partecipazione di federazioni sportive, stelle dello sport ed esponenti delle istituzioni. In pochi giorni avremo a Belluno una parata di campioni come non si era mai vista da Franco Baresi, Enrico Sacchi, Fefe De Giorgi, Filippo Magnini, solo per fare alcuni nomi dei grandi campioni che in quei tre giorni arriveranno a Belluno nel cuore della città. Al centro dell'attenzione naturalmente l'attività sportiva, ma non solo, per un'iniziativa che punta a diventare il primo evento in Italia dedicato all'economia dello sport in prospettiva delle Olimpiadi 2026. Il focus sarà su il valore e i valori dello sport. Il valore è chiaramente economico, ma i valori che sono anche inclusione, ma anche tutti quegli insegnamenti che lo sport può dare a chi gestisce un'azienda o un'organizzazione. E da questo punto di vista gli spunti saranno sicuramente tanti, visti i nomi che avremo l'onore di ospitare qui in città. Sul sito sportbusinessforum.com si possono trovare tutti i dettagli del programma. È chiaro che il progetto nasce in prospettiva di Milano Cortina 2026, ma nella nostra intenzione vuole essere una delle grandi legacy, ovvero questa è la prima edizione e l'idea è di ripeterlo poi ogni anno come i tanti festival che animano tante città del nostro paese.